Nella vecchia prateria Quante bestia? A stopierla Alla serie di Ultraman C'è Alien Baltan Baltan Bab E come è venuta Non lo so ragazzi Come è venuta Questo è Alien Baltan Uno dei nemici del nostro Ultraman Nella prima serie Partiamo a recensire lui Ma dopo vedremo Anche l'SH con tutto il diorama Perché partiamo a recensire lui Perché quando poi vedremo Ultraman Vi mettiamo giù proprio anche tutto il diorama Con la città dove combattono Quindi allora era giusto iniziare Da lui e poi concludere Dopo che mentre combattono Che uscirà una seconda recensione divertente Come dico sempre Cosa devono fare? Iscriversi al canale Mettere like alla fine di questo video Ragazzi Esatto Mettete questi rike Mi raccomando Iscrivetevi E la campanellina E poi soprattutto Commentate Commentate È vero Commentate che io non lo dico mai Commentate Lui è carino Però è proprio piccino 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 Dai vediamolo bene nel dettaglio Eccoci 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 Alien Baltan Ragazzi Bandaglia ha fatto un libretto di istruzione Che io non me l'aspettavo Tu non hai mai visto cosa è? Ma manco Guardate 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 come è illustrato bene Questo è il nostro libretto di istruzione Di Alien Baltan Dal fondo di Ultramanno Lui è uno dei suoi antagonisti rivali Vedete il libretto di istruzione ci dice Occhio soltanto ad aprire la tenaglia Che potete rompere il perno Di giunzione Cioè fa schifo Fa schifo È tutto quel libretto Andiamo a vedere la figure Che Vedete Praticamente andiamo a levare I due cose qua Allora Madonna Quante ne hanno Gli ne hanno messo un sacco Madonna Sì Come fai? No va bene Lo facciamo vedere così Allora A gonnellino Vediamo L'occhietto Lui dovrebbe essere Uno pseudo moschius No Vedete Una specie di granchia Quelle che È però vedi che c'ha la punta Tipo un misto Tra Granchius Mosca Qualcosa Al di Aliena Vedete Andiamo a vedere Faccia pure il codino Che copre le ciappette Vedi C'è il codino Che copre le ciappette Ma sai con granchia Un granchio Sì Un granchius Vedete È comunque colorato Colorato bene Vedete Il fatto Non possiamo dire niente Andiamo ad alzare Le tenaglie Vedete Andiamo a vedere Tutte le parti Sì Però andiamo a vedere Vedete La colorazione Questo disegno qua È carino La colorazione È ben riuscita Su Vedi Sulle gambette Tutto fatto bene Parte qua dietro Il petto Vediamo È fatto benino E qua c'è la bavetta Diciamo la testa Con la bavettina Andiamo a vedere La cosa più bella Che sono queste tenaglie Che ci dicono Anche nel libretto Di istruzione Vedete State attenti Ad aprirle Perché effettivamente Il perno Qua è proprio Piccolo piccolo Andiamo a vedere Piano piano Vedete Comunque Si apre Fa la sua scena Che possiamo Mettere in combattimento Vedete Contro il nostro Ultraman Vai Ultraman Quindi direi Che gli facciamo Fare Un salutino Così E lo vediamo Adesso Girare Per poi Vedere Combattere Contro il nostro Ultraman Stava pensando Cosa Che in Giappone Consuma Un sacco di pesce Giustamente Taggranchi E quant'altro C'è Eppure Fanno mostri Così C'è La serie Proprio Fanno schifo No dai Ma però Lui Nella sua Bruttezza Com'era Nel cartone Animato Comunque Guardate Non è male Poi Faccio caso Che mostro Sempre Granchi Quelle cose E' piccino E' piccino Eccolo qua Ragazzi Il nostro Alien Baltan Dal Mondo Di Ultraman Vai Ultraman E ricordo Che a breve Vedremo Anche Lui Scontrarsi Nella Città Nella città Insieme al nostro Ultraman Perché in questa SH Figurs Fatta per Il Come si chiama Per il Cinquantesimo Forse anno Il trentesimo Non vorrei Cinquantesimo Cinquantesimo Della figura Della figura All'interno C'è anche Vedete Un Plastico Dove possiamo Vedete Mettere Ed è quello Che faremo In scena Un combattimento Ed è veramente Bello Da tenere In vetrina Quindi adesso Facciamo fare Un altro Girettino Veloce Veloce A lui Perché è Comunque Carino Dopodiché Lo Rivedremo Tornare Nel combattimento Finale Nella costruzione Diciamo Così Del plastico Di Ultraman Quindi lo Rivedremo Anche là Magari Insieme a Qualche Altra Sorpresina Ci potrebbe Essere Anche Qualche Altro Mostriciatolo A combattere Fino All'ultimo Sangue Fino Alla parte Nella città Di Ultraman Che dice Andiamo A stoppare L'hanno visto Buona L'hanno visto Buona Buona Avete visto Buona E quindi Andiamo A interrompere Questa Anzi A concludere Questa Recensione Allora Ragazzi Che dire Quest'Anian Baltan È Fatto Più o meno Benino Non è male Vedete Con le tenaglie aperte È proprio Carino 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 E diciamo Che se lo vogliamo mettere In una scenetta Contro l'ultraman Come vedremo Tra poco Nesce Comunque È una scenetta In vetrina Molto bellina Lui l'abbiamo visto Non è che Poteva fare Neanche di più Bandai Perché tanto La figura È così Quindi È orripilante Vedete È orripilante I gonnellini Potremmo Stomniarseli Sì I gonnellini Qua No vabbè Ma l'hanno fatto Il carino Dai Tutto sommato È carino Gli facciamo fare Anche Una capriola Vediamo Rimane su? No Non rimane su Non rimane su Dai Se vi è piaciuto Questo articolo Andate Alla comprare No a parte No a parte gli scherzi Se vi è piaciuta La recensione Un bel like Iscrivetevi Come sempre Che ci fate Un felici E sappiamo Che possiamo andare avanti A fare le nostre recensioni Se lo avete fatto ancora Iscrivetevi quindi Al canale Poi che dire La campanellina Se volete Attivate anche quella Così vi arrivano le notifiche Commentate Come ho detto prima Commentate Adesso andiamo a vedere Questo qua Non lo mettiamo via Perché lo rivedremo In una scena finale Insieme Lo facciamo combattere Con Ultraman Quindi Tra poco lo rivedremo E vi salutiamo Iscrivetevi al canale Ciao ciao dal Carletto E da Raffa Ciao ciao Togli quel coso Mi fa vedere a me Il mostrone